Prende il via domenica 23 ottobre la rassegna teatrale dedicata ai bambini promossa dall'Associazione Educare alla Vita Buona, la presentazione presso la sala consigliare della città, la presenza delle istituzioni e dei sostenitori dell'iniziativa, una nuova offerta culturale pensata per le famiglie che si terrà al Teatro Don Bosco. Saranno quattro rappresentazioni, tre di una compagnia di professionisti che è fonte maggiore di Pegiugia, l'altra fatta d'arte e tintorni qui compagnia di Gualdo Tadino. Ecco noi ci auguriamo che sia veramente un momento importante per i giovani per avvicinarli al teatro, per fargli capire veramente la bellezza di questa forma d'arte e quindi di crescere insieme nell'imparare veramente il linguaggio del teatro e il linguaggio di questo tipo di cultura. Il teatro è una grandissima valenza educativa, è uno spettacolo dal vivo prima di tutto, è uno spettacolo dal vivo dove quello che avviene in scena coinvolge direttamente il bambino che si identifica in quello che sta vedendo e quindi chiede una partecipazione emotiva il teatro ed è quindi differente da tutte le proposte che avvengono in televisione, nei vari social, nelle varie piattaforme ed è pensato proprio anche per cercare di allontanare i bambini in qualche occasione, in qualche momento dall'essere dipendenti dalla televisione senza voler dire male ovviamente della televisione. Importante il sostegno di privati, i club Rotary e Lion, la MS di Sandra Monacelli. Domenica 23 ottobre si parte con il primo dei quattro spettacoli teatrali dedicate ai bambini dai 5 ai 12 anni. Somari è il titolo con animazione Burattini presentato dalla compagnia Fonte Maggiore. Si prosegue giovedì 27 ottobre con il bambino e la formica, sempre della compagnia Fonte Maggiore e il 17 dicembre con C'era una volta il Natale della compagnia Arte d'Intorni. Si chiude l'8 gennaio con Sogno della compagnia Fonte Maggiore.